Allora Jean-Philippe, Qual è la condizione del mercato francese ad oggi e del campionato? Buongiorno! La Mi-Jet è una categoria che esiste depuis 7 anni in Francia e abbiamo molti succès depuis che l'a dimarré perché c'è un bon equilibrio entre la performance, la fiabilità, il look della voiture, tutti i piloti hanno la même voiture quindi la competizione è veramente la più importante nella nostra categoria non è il pilota che ha il più d'argento, che può essere il più riche, è veramente il pilota che fa la differenza per noi è molto importante quindi dopo 3 anni che la 2 litri è sorti in Francia noi siamo completi quindi abbiamo un'autorizzazione di 43 voitures su la grida di départ e è il caso quindi ci sono davvero un gaggio serio di nostra serie di fare venire tanto i piloti soprattutto in dei momenti un po' difficili al livello del sport automobile in Europa e, ovviamente, dei piedi sono interessati con l'Italia la prima course qui è qui sul weekend e poi gli Stati Uniti, la Russia, il Danmark un sviluppo che ci interessano perché abbiamo un obiettivo di fare le rendimento la passion del sport automobile il piacere del pilotaggio e un coi riduce è il segretto della Mi-Jet, credo quali sono i segreti tecnici della vettura che la rendono così divertente e di successo? quali sono i segreti tecniche che rende la Mi-Jet una macchina perfetta? allora io penso che c'è veramente un tutto c'è il peso, già c'è una macchina che è molto leggera che fa circa 750-800 kg è molto importante per l'usure delle pneumatiche per l'usure delle freine per la facilità del pilotaggio dei piloti il motore centrale l'avent è molto importante per l'equilibrio dell'auto è molto importante per il pilota è una buona posizione per il pilota per essere grande, per essere piccolo non importa il fisico è bene in una Mi-Jet e questo è molto importante quindi ci sono molte cose che facciamociare la macchina oggi tanto grazie a tutti per essere presenti qui a Valle Lunga questo vostro weekend è su quattro gare con inversione di griglia quindi due per i pro e due per gli alma noi siamo molto felici di ospitare questo campionato per tutto il 2015 quindi questa sarà una bella prova di presentazione in bocca al lupo a tutti e buon divertimento questo è un campo a tutti i luoghi è proprio a tutti i luoghi non vediamo la mia carina è un campo a tutti i luoghi spazio è un campo a tutti i luoghi la mia carina che è un campo a tutti i luoghi Grazie a tutti. 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 Proverò a combattere con questi miei giovanissimi avversari, ci proverò in qualche maniera. Io la visera la tengo alzata perché c'è il vetro, però sì, comunque cercherò anche io di attaccare, partirò decimo e vediamo se pioverà, ci sarà ancora più spettacolo, quindi sicuramente sarà una gara tutta da seguire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cos'è il gioco delle scie è cercare di stare vicino più possibile alla macchina davanti, sfruttare la mancanza di impatto aerodinamico che ha la tua macchina, recuperi i giri e guadagni velocità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La C-Mini per una sorta di scollinamento è chiaro che è un po' più difficile perché tende a creare un sovrasterzo e di fondo la macchina va di traverso. La Campagnano invece è una curva lunga quindi si sta lì, si cerca di mantenerla in assetto neutro che è la cosa un po' più difficile, però di fondo più che altro adesso è il sorpassare che è la cosa un po' più difficile qua, che con queste macchine ovviamente devi succhiare la scia, prepararlo magari un due o tre curve prima al sorpassare. La C-Mini per una sorta di scollinamento è un po' più difficile. La C-Mini per una sorta di scollinamento è un po' più difficile. Vittoria! Grazie a tutti. 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 I really, really gotta run I gotta run I said run I said I really, really, really gotta run I said 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 run